Assemblea cittadina di Sunia e CGL questa mattina sull'emergenza casa. I due sindacati hanno chiesto alle istituzioni risposte sulla realizzazione di nuovi alloggi popolari, sull'aumento dell'offerta abitativa per gli sfrattati e per cittadini in difficoltà economiche e sociali, sulle garanzie di alloggio per tutti coloro che rischiano di rimanere senza casa e sulla sospensione degli sfratti per morosità involontaria. Tra i temi affrontati, gli accordi per il recupero delle morosità dei canoni, la riqualificazione degli immobili e delle abitazioni ERP, le occupazioni senza titolo, l'illegalità e il degrado contro cui lottano gli abitanti, ma anche le difficoltà degli inquilini del settore privato, spesso non in grado di pagare canoni troppo alti e la condizione di chi vive in un'abitazione di proprietà e non è in grado di sostenere le spese del mutuo o della manutenzione e rischia di perderla. Ci abbiamo indetto questa assemblea per fare il punto sul tema dell'emergenza abitativa che a Catania è ancora grave. Vorremmo in realtà analizzare anche con i nostri ospiti, saranno l'assessore alla casa e il direttore degli ACP, cosa si prevede in tempi brevi per una soluzione anche parziale del problema. Ci interessa sapere i tempi della realizzazione degli alloggi del Palazzo di Cemento, i tempi della realizzazione dei 144 alloggi delle due torri e poi anche capire come funziona proprio l'accoglienza sull'emergenza. Chi è sfrattato dorme per strada, allora noi pensiamo che ci vuole un sistema anche di alloggi temporanei che possa evitare che le persone stiano in macchina, famiglie intere a Catania dormono in macchina. Nel frattempo altro problema è l'incuria in cui versa tutto il patrimonio pubblico, le case popolari insomma. Incuria, abbandono, acqua che manca per mesi, ascensori rotti. Ora, c'è un sistema normalizzato che possa essere messo a punto in maniera tale da affrontare anche questo degrado? È possibile che i fondi comunitari e ce ne sono, possono essere utilizzati per la riqualificazione degli immobili? Noi pensiamo di sì. Finalmente si sta partendo, finalmente c'è un cambio di passo reale su tutti i temi dell'emergenza abitativa, perché oltre alla ristrutturazione finalmente messa in opera del Palazzo di Cemento per restituirla alla città e ai cittadini, si sta lavorando con le risorse comunitarie per recuperare anche le cosiddette due torri che darebbero altre 144 alloggi, metterebbero a disposizione 144 alloggi per i cittadini che hanno bisogno, coloro i quali appunto sono nelle gradatorie. Poi stiamo lavorando anche per l'emergenza immediata, cioè coloro i quali purtroppo non sono stati sfrattati e sono assolutamente fuori senza un alloggio. Con gli ACP abbiamo stabilito di mettere in campo alcuni ricoveri di emergenza, 14 più alcuni nostri, proprio per fare in modo che da qui a pochissimo tempo si possano assegnare chi è in una condizione di disagio estremo. Poi stiamo facendo tante altre cose, in collaborazione col sindacato abbiamo per esempio aperto lo sportello unico per l'emergenza abitativa che sarà dai primi di gennaio attivo con le organizzazioni sindacali che daranno risposta ai cittadini che porranno i problemi sui temi di cui stiamo parlando e credo che questo è anche un altro messaggio per semplificare la vita a chi non solo ha bisogno e poi deve girare 100 luoghi magari avendo risposte diverse senza mai avere certezza del loro diritto. Qui noi stiamo lavorando in questa direzione. La cosa è difficile sì perché l'emergenza abitativa è una delle emergenze principali però ci stiamo mettendo l'anima e la voglia e la passione per farlo insieme agli altri, ai cittadini che hanno bisogno, alla città e alle organizzazioni sindacali ci riusciremo.